Questo è andato su tutte le foglie, ha preso una delle bambine, quella più piccola, la scaraventata proprio in malo modo, quell'altra un po' più grandicella, se mi sa piangere davanti a noi, che è veramente stata una roba agghiacciante, l'abbiamo poi tranquillizzata noi, no? Beh, urlando, non fate del male a mio padre, che, a mio dico, non era la condizione, era il padre che era più avviso di fare il male a qualcun altro, la madre, siccome lui, mentre la bambina piangeva disperata, urlando, non fate del male a mio padre, la madre cercava di interagire, lui ha allontanato la madre, come dire, deve arrangiarsi la ragazzina, e se la siamo presa io e l'altra ho stesso, vieni qua, non ti preoccupare, nessuno fa del male a nessuno, e la madre ci guardava, cioè, mentre noi stavamo rassicurando questa ragazzina, che era completamente in angoscia, perché aveva inteso chissà cosa, e probabilmente chissà cos'altro era successo nella loro vita, che poteva aver fatto poi trascendere ulteriormente la situazione, no? E questa donna paralizzata, cioè, non è riuscita nemmeno ad avvicinarsi a sua figlia, che era consolata da due perfetti estranei. Cioè, questa è una fotografia di maleducazione in primis, ma di un modello familiare ancora completamente sbagliato, dove questa donna è chiaramente una condizione di insulitanza fisica, ma soprattutto psicologica, e questo tipo di modalità, purtroppo, è molto diffusa, perché tutte noi abbiamo in testa, parlo soprattutto alle ragazze, alle meneggiate, rappresentanti del sesso maschile oggi qua presenti, oggi il mio intervento è principalmente rivolto alle mie colleghe donne, insomma, perché il problema principale è proprio questo, tutte noi ce l'abbiamo ancora in testa, questa fantasia del principe azzurro. Beh, vi devo dare una notizia tragica, ma bisogna pur farlo, in qualche modo affrontarla, i principi azzurri sono estinti. Sono estinti, bisogna farsi ad una ragione, quindi se una storia non va, non va. E una storia che non va, si interrompe, senza se e senza ma. Finiamola con i sensi di colpa, finiamola se io lo lascio, lui si uccide, no? Tanto non si ammazza, ma andate tranquilli, insomma, dal suo punto di vista, me ne assumo la responsabilità di quello che dico. Lasciateli al vostro destino, lasciateli al vostro destino. Prendetevi la vostra vita e correte libere nelle praterie dell'esistenza che vi stiamo aprirando davanti. Non accettate alcun compromesso. Non si resta con qualcuno per paura, non si resta con qualcuno per pietà, non si resta con qualcuno per ricatto, chiaro? Se avete paura, vedrete aiuto. Ci sono tantissimi professionisti, tantissimi centri antiferenti che faccio parte del Telefonorosa, ma voglio dire, c'è il Telefonorosa anche qui a Napoli, peraltro, quindi potete rivolgervi con la massima tranquillità, ma ci sono anche altre realtà, per carità non vogliamo fare pubblicità o punta, quindi rivolgetemi con sicurezza, con tranquillità a dei professionisti, psicologhe, avvocati, persone delle forze di polizia, naturalmente chiedete consiglio, perché vi avrà dato degli ottimi consigli, ma non restate in storie che non vi soddisfano. Non è stritta da nessuna parte che dobbiamo tenerceli. Se una storia non va, e questo vale anche per le ragazzine, se una storia non va, è improntata al controllo, al ricatto, alle botte, alla violenza verbale, alle ingiurie, alla continua, incessante modalità che va a mettere in crisi la vostra autostima, perché tendono a svalutarvi, a farvi sentire sicure di voi, a isolarvi dal contesto di riferimento, dai vostri amici, dalla vostra famiglia, sono tutti indicatori che dovete immediatamente cogliere, e deve cogliere anche chi vi sta vicino e vi vuole bene. Non accontentatevi, il mondo è pieno di persone che inventano di essere amate da voi. Se qualcosa non va, non va, l'unico modo per cambiare un partner violento, un fidanzato violento, un marito violento e cambiare partner, marito e fidanzato.